Siamo fortemente preoccupati per come si sta evolvendo questa situazione. Il commissario e anche i vertici dell'azienda hanno retirato l'articolo 182 a suo tempo depositato a dicembre dove domani si doveva pronunciare il tribunale cosa invece che è stato retirato da parte dei vertici dell'azienda quindi questo ci porta in una situazione di confusione, dove non vediamo prospettive da parte di questa azienda.